Due nuove telecamere ad altissima definizione per monitorare Piazza della Vittoria, uno strumento di controllo che il Comune di Pavia aveva deciso di acquistare prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus per presidiare con più attenzione una delle zone calde della città, soprattutto nelle serate della Movida, serate del divertimento degli studenti che non rappresentano più, viste le limitazioni, un problema centrale nell'agenda politica del Mezzabarba, ma l'impegno di spesa di poco inferiore ai 40.000 euro era stato effettuato lo scorso anno, quando l'emergenza sanitaria non era ancora nei pensieri del Comune. I nuovi occhi elettronici rappresentano ad ogni modo uno strumento utile per filmare in diretta la vita della piazza o per ricostruire fatti di cronaca che richiedono immagini particolarmente nitide. Le telecamere saranno posizionate al broletto e sotto la tettoia del mercato coperto e potranno riconoscere i volti fino ad una distanza di 150 metri. La scarsa risoluzione degli apparecchi in dotazione al momento hanno infatti in molti casi ostacolato le indagini di diversi fatti di cronaca avvenuti nel cuore del centro cittadino. Le nuove strumentazioni invece sono ad alta definizione. Ciò significa che le due telecamere potranno riconoscere i volti da una parte all'altra di Piazza della Vittoria. Dal Mezzabarba precisano inoltre che gli occhi elettronici serviranno solo per controllare l'ordine pubblico e non per motivazioni riconducibili ad assembramenti ed emergenza sanitaria.